Ma secondo me è un atteggiamento, anzi è un approccio anche giusto da parte della squadra avversaria, come si dice? Chi mena prima mena due volte, però in questo caso siamo andati bene, diciamo bene, l'approccio alla partita secondo me dal punto di vista del gioco è stato pessimo. Poi piano piano abbiamo ripreso a giocare a due tocchi e un tocco, siamo usciti fuori con delle belle azioni, con qualche palla rubata e poi con ripartenza, però tutto sommato la vittoria era quella più importante, però dal punto di vista del gioco secondo me non abbiamo fatto una partita da Toni Ponzi. Ma no, no, anzi noi portiamo rispetto a tutte le squadre della Lega. No, e diciamo questo è un approccio che ogni tanto ci viene, ma poi viene modellato, anzi risolto durante la partita, anche perché ce la mettiamo sempre tutta, anche perché quest'anno bisogna salire, c'è poco da fare.